iDOS è il sistema automatico di dosaggio di detersivo e ammorbidente presente su alcuni modelli di lavabiancheria Bosch. Questa innovativa tecnologia consente di risparmiare oltre 7000 litri di acqua e 11 litri di detersivo ogni anno. È sufficiente riempire il cassetto iDOS di detersivo e ammorbidente ogni 20 lavaggi circa, caricare la biancheria e avviare il programma automatico. Il risultato? Un bucato impeccabile, nel massimo della semplicità e quando i livelli di detersivo e ammorbidente sono bassi la lavatrice segnala che è il momento di ricaricare. Inoltre le lavatrici Bosch iDOS dosano detersivo e ammorbidente in base al carico, al tipo di tessuto, al grado di sporco e alla durezza dell'acqua. In questo modo il dosaggio preciso e automatico del detersivo e dell'ammorbidente non solo protegge il bucato ma anche l'ambiente e il portafoglio.